Let's go butchers e benvenuti a questo classet app per la modalità MLG In questo caso voglio parlarvi di una classe che ho utilizzato ieri E nonostante tutti i problemi di connessione che ho avuto per chi ha assistito alla stream eccetera eccetera Ho trovato sia una classe veramente forte Anche con due tacche riuscivo comunque a giocare abbastanza decentemente con questa classe L'arma è veramente forte specialmente con questo setup Sto parlando dell'XR2 che è il fucile d'assalto con raffiche automatiche da tre colpi Beh quest'arma è veramente forte per questi motivi Per prima cosa ha un elevato danno E il fatto che sia un'arma raffica comporta il fatto di dover premere il grilletto comunque ripetutamente per poter sparare raffiche Ma con quest'arma non dovete farlo vi basterà tenere premuto il grilletto per sparare automaticamente Quest'arma utilizzo come accessori il mirino ole Che sarebbe quel mirino praticamente il mezzo reflex dove è tagliata la parte superiore E mi trovo benissimo per mirare eccetera eccetera E il calcio regolabile che secondo me è un must al momento sugli AR Non si sente tantissimo ma ugualmente è utile per straffare, muovervi e aggiustare la mira E poi gli FMJ Gli FMJ sono veramente ottimi perché potete bucare gli angoli dei muri, delle protezioni e tante altre cose E vi consentono quindi di uccidere un avversario che magari si trova dietro un head glitch Un po' stile black ops 2 quando si utilizzava l'M8 senza estrazione rapida con gli FMJ Utilizzo poi la RK5 che è la pistola a tre colpi E' ottima secondo me perché veramente distrugge i nemici da vicino Quindi non potrete sempre utilizzare l'XR2 da vicino anche se è un elevato danno ed è ottimo anche da corto raggio Potete utilizzare in questo caso questa pistola, la RK5 Come tattiche utilizzo due sistema trophy Questo perché giocando come ancora diciamo o comunque come supporto come R Preferisco utilizzare il trophy ed evitare che stun e granate mi uccidino Infatti in questo caso utilizzo anti-skedge per evitare che comunque le granate, le macchine che esplodono, i barili e altre cose mi uccidano mentre sono in posizione Prestigiatore che è un must da usare perché vi fa mirare rapidamente mentre state correndo E poi propulsione furtiva Non utilizzo maschera tattica perché in questo caso sfrutto il sistema trophy In modo che può bloccare le granate Quindi evito che muoia se mi tirano tipo 2-3 granate, se mi fanno esplodere una macchina eccetera eccetera Ho anche anti-skedge In più per maschera tattica dato che non la utilizzo mi evitano che vengo flashato, che le shock charge mi blocchino, che vengo stannato eccetera eccetera Perché veramente sono mortali Io spero vi sia piaciuto questo class setup Provatelo, fatemi sapere quello che ne pensate qui sotto al video Vorrei avere anche una vostra opinione Io vi saluto, butches, ci becchiamo al prossimo video Let's go!